Si chiama La Corsa del Porto ed è un gioco da tavola dedicato a Porto Recanati. A idearlo un giovane del posto, Leonardo, un ragazzo di 22 anni che lo ha progettato in occasione della sua tesi di laurea. Un gioco rivolto a tutti per conoscere e riscoprire la cultura e le tradizioni porto-recanatesi. Non è altro che un gioco da tavolo che prende un po' ispirazione dal palio e da diversissimi giochi da tavolo, come tipo il Monopoli, tipo il Cursi e tutto altro. L'obiettivo di questo gioco è quello di imparare la cultura dei Porto Recanati e la città. Quindi ci sono diverse carte, come la carta di Montalice, che è un quartiere, in cui il giocatore va a rispondere a delle domande inerenti al palio e così via. Per ogni quartiere ci sono delle categorie e ogni categoria corrisponde a cose dei Porto Recanati, come lo sport, come la cultura, come la storia, eccetera, eccetera, eccetera. Il gioco prende il nome dal celebre palio cittadino, rievocazione nata in onore delle tradizioni marinare del paese. È una manifestazione che avviene ogni estate, molto sentita dai portori canatesi, e richiama soprattutto la fatica dei pescatori, in cui portavano il pesce dal pescato alla pescheria, insomma, per farla breve, e chi prima arriva ovviamente vede il pesce a un prezzo più alto e di conseguenza nel gioco, nella corsa, il primo che arriva ovviamente con più pesce vince il drappo.